Siamo felicissimi di poter comunicare che finalmente la querelle giudiziaria relativa alla questione Italcali sembrerebbe definitivamente chiusa ed infatti ieri l'Avvocato dell'ente, Girolamo Rubino, mi ha comunicato che il TAR Palermo ha dichiarato inammissibile il ricorso, l'ennesimo ricorso presentato dall'Italcali contro il Comune. Colgo l'occasione per ringraziare la precedente amministrazione di cui ho fatto parte, Lillo Zicari, che con me ha portato avanti questa battaglia che è relativa alla crescita di un territorio che passa attraverso la bellezza e quindi alla netta negazione di ogni forma di insediamento industriale che siano incompatibili con il nostro territorio.